I pagamenti con carta di credito o bancomat costano troppo ai commercianti. Pensate che su 100 euro di carburante c'è un costo del 40,48%, cioè ogni 2,47 euro di guadagno, uno se ne va via, ad esempio, se il pagamento è con carta di credito, 50 centesimi se il pagamento è con il bancomat. Addirittura per le ricariche telefoniche il commerciante perde il 60% del guadagno se il cliente paga con carta di credito. Alla luce di questa situazione Confesercenti Arezzo ha raccolto l'appello del presidente regionale di Confesercenti Toscana Nico Gronchi impegnato a frenare gli elevati costi delle transazioni elettroniche e in tutta la Toscana Confesercenti ha presentato ai parlamentari la richiesta di un intervento del governo che disciplini il costo dei pagamenti con carte di credito e bancomat, un costo troppo alto che pesa mediamente per migliaia di euro nelle tasche dei commercianti. Noi non siamo contro le carte di credito perché Confesercenti è un'associazione che non è retrograda ma guarda in avanti. Quindi carte di credito sono una grande possibilità per riattivare il commercio in un momento asfittico, sono una grande possibilità per la tracciabilità fiscale e credo il governo abbia voluto fare questo con questa operazione e siamo tutti d'accordo. Credo che questo sia un vantaggio grande per le banche perché chiaramente alleggererebbero il loro lavoro agli sportelli in quanto la circolazione di contanti e pagamenti in contanti andrebbero naturalmente a scomparire. Quindi io credo che in tutta questa situazione gli unici che non debbono essere penalizzati come sono penalizzati adesso con delle commissioni alte che vanno, come ripeto, dallo 0,7% che è la commissione sui bancomat all'1,1% sulle carte di credito credo che non debbano essere penalizzati in questo momento i commercianti quando poi si fa un'obbligatorietà a questi commercianti. Quindi se si obbliga da una parte, una categoria, ad assumere certe responsabilità e a fare certi tipi di pagamento è vero anche che questa obbligatorietà deve portare a non caricare categorie già che non ne possono più. A volte l'agio, quindi il guadagno dei piccoli esercenti è talmente esiguo che il peso della transazione e dei costi rischia di essere troppo elevato quindi dobbiamo tentare di intervenire perché in Europa c'è un atteggiamento diverso e dobbiamo anche in Italia tener conto di questo.